stasera si gioca il lume di candela capo non ne perdi uno ora roby ma le luci basta domandare basta pensare oh lu veramente il tempo con il telefono con l'orologio come si fa non ne perdi uno 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. No, no, no. a tutti. 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 a tutti.